È un momento sicuramente triste quello che ci coglie oggi perché chi magari per averlo vissuto personalmente, chi magari perché l'ha sentito dai racconti dei genitori perché era troppo piccolo per ricordarlo come è il mio caso, però chi non sa chi è stato Paolo Pablito Rossi. Tra l'altro nella mia terra lui ha vissuto sicuramente dei momenti molto importanti perché è stato un grande centroavanti del Vicenza ma anche del Verona, probabilmente a Vicenza ha avuto uno dei momenti più belli della sua carriera e quindi è diventato anche cittadino onorario della città di Vicenza, quindi sicuramente tanti appassionati, tanti sportivi, ma condividevo quello che si diceva prima, è stato un simbolo di tutta Italia in un particolare momento storico, un momento di rinascita ed è stato il simbolo anche da un punto di vista umano di quello che significa avere dei momenti di gravissima difficoltà, avere dei momenti di gravissima delusione e poi riprendersi tutto con gli interessi diventando uno dei simboli migliori che lo sport italiano abbia mai avuto. Una persona tra l'altro molto umile, anche questo mi va di ricordare una persona umile che ha saputo con il suo modo di fare, con il suo modo di lavorare, ha saputo rappresentare al meglio quella che è stata la nostra nazione soprattutto in quegli anni fantastici che sono stati gli anni Ottanta. Io credo che tutti noi dobbiamo a lui un profondo ricordo per quello che ha rappresentato, per quello che è stato e per quello che sarà sempre nella nostra memoria collettiva. Grazie.